E' un'altra primavera, è proprio l'appuntamento ideale e quello leader nel sud Europa per gli operatori del gioco ed è anche l'occasione per presentare giochi tradizionali che tornano alla ribalta e giochi per i quali ci sono tantissimi appassionati che disputano veri e propri campionati. Oggi inizia il campionato di Bigliardino, inizia e si conclude perché poi nel 2015 ci sarà un vero e proprio torneo e questo quindi diciamo che è soltanto una prima fase, mentre da domani fino a domenica si interrà il campionato europeo di flip sportivo e questo è veramente un grande appuntamento, richiama giocatori da tutta Europa e ci sarà anche il campione europeo in carica, il campione italiano che è intenzionato a dare battaglia per conquistare il titolo. Ci sono soprattutto grandi novità di prodotto e sono novità legate soprattutto a quelli che sono comunemente considerati i giochi da sala giochi per intenderci, quindi abbiamo dei flipper innovativi come il Mustang che celebra i 50 anni del compleanno di una delle auto più famose del mondo o la Time Machine che conduce in un viaggio nelle viscere della terra, altri giochi molto poi classici ma sempre rivisitati come quelli di sparo o di corsa, c'è uno dedicato a Batman e al mondo dell'uomo pipistrello quindi ci sono giochi tradizionali che vengono rivisitati e sperimentati in un'ottica assolutamente moderna.